RISPONDA! RISPONDA! BANITO! Clipper e Tigliani L'ANIMA DELLI MORTACCI TUA! Ora, ripeto, avevamo visto un po' lo sfogo di Justice in seguito ad una perdita economica col casino problemi, non so, forse anche presunta ludopatia cazzi vari, ovviamente rispetto nel caso in cui su si stesse è una patologia di questo tipo, però cosa succede? Si prende un periodo di pausa, decide di tornare in live come dicevo anche prima, imponendosi delle regole Justice ritorna al casino ma con delle regole spoiler, non ne ha rispettato vabbè, non ha rispettato nessuna regola allora regà, ci sono delle semplicissime regole prima regola non si ricarica startino 250 mazza che merda prima regola ma se è tutto un pallare startino 250 e quello è finiti quelli stop prima regola numero uno seconda regola no blackjack se non con almeno il doppio del profit dello start il che vuol dire che se se arriviamo a 500 si può andare al blackjack se non stiamo almeno a 500 non si può andare al blackjack quindi almeno bisogna stare in profit al doppio per andare al blackjack e non si ricarica queste sono le due regole terza regola se vedete che sto tiltando mi scrivete in chat ricordati quello che avevi detto e io non tilto ci pensiamo noi bro terza regola mantenere le prime due esatto ok cazzo spiegate con una confusione si capiva in cazzo vabbè vabbè ritorna al casino ma perde ancora una volta tutto dopo ha ricaricato altre due volte e ha perso ancora non ci ha pagato un cazzo una cazzo di slot bro diciamo va ben poco non serviva ormai e tra l'altro è andato al blackjack il mac è bello bisogna farlo mi sono perso il momento in cui perde tutto è fondamentale diciamo va ben poco che merda chi è quello è una tizia va così ah vabbè crazy time ovviamente è uscito quanto ha dato 20 20 25 vabbè dovevo stare faceva 19 frate che dovevo stare fra ma non sai giocare va bene ragazzi non so giocare dovevo stare faceva 19 non sai giocare qui diciamo un po' più triste la cosa pandemio non dice non ha rispettato mezza regola nel giro di mezz'ora era già andato al blackjack e dopo un'ora e mezza ha ricaricato ah vabbè ragazzi un po' come tutti noi dai vediamo quelle regole dal lunedì dieta capirei quante volte ho detto mai fatto specie per modificare comportamenti che sappiamo ci scammano è vero è vero tipo pure con il banalmente con il fumare però di meno poi te li trovi si 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 sulle dipendenze soprattutto per le sigaretta è perfetto con le dipendenze tutte quelle cose anche non uccidere per esempio dato mai non uccidere più poi ogni volta poi te passa quella signora che sta da sola che ballenta perché ho detto magari gli passava tipo al fanculo un casco così una spazzata quello rotante esatto non a november dai basta con ste pip e poi così poi passa la signora e poi quella mano mi pareva proprio una pip quanto volevo di pure prima ho capito ci ho provato però i grenni sono al punto debole mio e là ti fiorno in bagno e fai quello che devi fare ci sono molte cazzate puoi andare un attimo di dire quando siete il croupier colpo sotto ti piego ti smonto grazie Nico colpo sotto oh oh ah non è oh oh è colpo bellissimo penso che sia così poter vogliere i grubinieri volete vedere il croupier il croupier ve la butto là per esempio il gioco delle somiglianze la fusion fra Raiden dei player inside e Damiano Erfaina confermatevi se vi piace questa cosa mettete un attimo in movimento guardalo quando cambi espressione guardalo 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 è vero ci può stare se può giocare così poi scrivete nei commenti youtube più ipotesi possibili di quello che insomma pensate sia invece la somiglianza secondo voi migliore con un pizzico di gay se volete oggi proprio a giornata di gay rich vabbè che hai rich c'è una ignoranza lo vedi Marco non ha messo una colta in termini diciamo cinematografici subito a pensare a quello ci sarebbe nulla di male ma che io lo confondo sempre con Luc Besson ah francese dici sei proprio un Luc Besson tu dici i francesi certo vabbè c'è postato ma sei proprio un Luc Besson vabbè andiamo avanti pure un po' De Leon Kiro è vero che palle fratello che palle fratello porco Dio bellissimo finisce il casinò e se la prende con un fan proprio con uno è colpa tua capito l'anatema voglio la scella del Joker mi dispiace che ti devo dire mi dispiace cazzo le devo dire buttati così che devo fare fratello che devo fare che non ha pagato niente che mi devo inventare non è che sono il mago fratello che devo fare non ha pagato un cazzo bro che devo fare dimmi che devo fare lo faccio dimmi che devo fare buttati così che devo fare che devo fare devi smettere fast e live devi smettere di giocare d'azzardo per tutta la tua vita funziona vabbè l'ha chiesto lui che devo fare secondo me se devo rispondere alla sua domanda che devo fare la risposta è questa poi non so voi se avete altre risposte valide ma anche perché ha capito che non scarica ha detto ha detto proprio non ti dai i sordi che in effetti è quello il problema principale che non si guadagna ma secondo me è semplicemente una pippa al sugo una pippa al sugo anche la risposta gioca meglio gioca meglio vinci no vinci invece dipende vinci 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 segui l'esempio di Joker vinci devi vincere devi perdere è semplicissimo ci avevamo pensato che devo fare vinci vinci e Joker ci spiegherà come vincere adesso vai vai il mago fratello che devo fare non ha pagato un cazzo bro che devo fare dimmi che devo fare lo faccio dimmi che devo fare mi piace che ripete puntati così che devo fare che devo fare che cazzo devo fare ascoltate bene non manco funziona sta merda mamma mia fammi farlo giro al crazy con 2 euro e 50 sui bonus che cazzo te devo di che cazzo devo fa counter tipo 14 no che devo fare che devo fare risponda risponda bavido clip retigliani l'anima dell'immortacci tua ha ha ha